Eccoci con un nuovo video delle tappe da visitare nel Lazio ed intorni. Partenza Arzoli, Sosta Cappelle, Direzione Ovindoli. Un percorso di circa 70 km ricco di curve, tornanti, panorami mozzafiato e strade poco trafficate. Vi consigliamo dunque di provare questo itinerario. Buona strada e buona visione. Bacher Life! Buona strada e buona visione. Buona visione.